Ciao ragazzi, sono Diana Antasia, ma potete chiamarmi anche... E questo è il mio canale. Se non avete una ciotola, prendete una ciotola. Sentite questo rumore in Italia. Quindi, secondo me, la cosa migliore da fare è fregarsene e viversi la vita perché è una sola. Mi hanno sannutile, non ci credo. Come faccio? Scusa zia, ci hai visto Yosh? Mamma mia, p***a. Mamma mia, p***a.